Intanto Simone vuoi cominciare, tu? Bene, iniziamo con Francesco Pio Coviello e Anna Rita Di Molfetta, entrambe 15 anni, arrivano da Canosa di Puglia, li abbiamo selezionati nella tappa di Roma e balleranno un pezzo latinoamericano. Io mi chiamo Francesco Pio Coviello, sono qui con la mia partner Anna Rita Di Molfetta, nonché anche mia cugina. Viviamo entrambi a Canosa di Puglia. Ormai siamo sempre insieme, è dall'asilo che frequentiamo la squadra insieme. Siamo anche vicini di banco, siamo come fratelli. La cosa più bella è che anche se siamo nel mondo del ballo da cinque anni, ogni esperienza è come se fosse sempre la prima. Abbiamo sempre la stessa ansia, sempre le stesse paure, però insieme ci aiutiamo. Fa venire la macchia rossa che mi stringe sempre le mani, però. Non nasce l'amore, non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi, che mi stringe nel cuore. E se ne sono un miliardo, quando nasce un amore, un amore è un'emozione nell'amore. A quando nasce un amore, che cosa c'è di più cinoste, di un cielo che ha vinto mille di feste, che cosa c'è se adesso salto queste cose per te. Farò di te la mia stizzone, farò di te il tempo della ragione. Farò di più, farò di più, farò tutte le cose che vuoi fare a me. a quando nasce un amore, che cosa è l'amore. Non nasce un amore. complimenti perché ogni volta che vi vedo c'è sempre un miglioramento e voi siete per me il futuro di nostra e ballo latinoamericano in italia voglio dire è tantissimo sentire caro di dire questo è fabio lei non è mai così generosa così poi gli ha detto il futuro per cui c'è anche una grande responsabilità grande eleganza grandissima eleganza io sono molto arrabbiato anche perché il bianco si dice in grassa e lui è magrissimo anche vestito di bianco ragazzi complimenti in bocca al lupo ciao e proseguiamo adesso con raimondo passiamo adesso ad un gruppo loro sono i waking soul vengono da san pietro vernotico le scelte della nostra giuria quattro candidati alla finale e poi sarà antonio fini a dare il risponso definitivo dei due partecipanti a ballando con le stelle cominciamo da caroline chi è il tuo candidato sempre più difficile sinceramente allora per questa puntata ho scelto francesco e anna rita francesco e anna rita la coppia del futuro del latino giustamente caroline ci tiene a sostenere i ragazzi che portano avanti lo stile di cui lei è non solo stata grande atleta ma giudice allenatrice insomma sostenitrice hiermo